Ehi, 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 ehi. Dove vai? Lo devo usare io? E non lo capi. Mi leggo i nervi? Lo devo utilizzare io. No, lei l'ha utilizzato a tuo modo. Lo devo utilizzare io. Noi ci siamo di vivere qui, tutti e due. Ma ti sembra normale che a 40 anni questi si vantano a fare come i bambini dell'arte? Anche i nostri maricini sono così, non mi sembra normale per me, c'è un po' di bella che siamo d'assolta. Ragazzi, per piacere, oh! Ecco, morimo lei, morito. Eh, ma mi stascia, per me! La stascia, sto ferma! Allora! Eh, non lo capito, lo devo utilizzare io! E io o no? Siete come i bambini? I bambini, non si può fare questa cosa, eh! Ma per soltanto non andiamo più, andiamo da assolto, con le altre coppie, non è meglio che non andiamo. Mi stanno guardando tutti, brutta figura! Eh, allora, allora, facciamo una cosa. Mettetevi d'accordo, avanti! Con lui mi metto d'accordo! Muoviti! Fa! Fate la pace, prima di più! Allora io, prima di più! Ma! Fai così, mi faccio per andare! Va bene, mette! Fatto? Ma sì, ci siamo messi da... Allora? Niente, abbiamo pensato che io lo utilizzo per scendere, e io lo uso per salire! Motokamè! Ma, vai, vai. Motokamè! Motokamè... Motokamè! Sto fermi! Sto fermi!